Musica Benvenute, oggi vi mostro l'album numero 15 del Livro Shake valido fino al 2 dicembre 2015 Tantissime offerte, tantissime promozioni e soprattutto tante idee a regalo Vi ricordo che è attivo anche l'album quello di Natale Quindi questa è una delle ultime occasioni per acquistare dall'album di Natale e dal catalogo delle promozioni Sapete che gli album di Natale direi entro il 15 massimo di fare l'ordine perché sennò non ne arrivano in tempo E quindi direi di non ne andare oltre e di iniziare a sfogliare il catalogo Eccoci qui con l'album numero 15 che è valido fino al 2 dicembre 2015 Vi ricordo che c'è anche l'album di Natale Quindi questa è una delle ultime occasioni per poter acquistare da tutti e due gli album Iniziamo subito e guardiamo il sommario che vediamo tantissime offerte e promozioni Intanto questa ad esempio che è il set Dolce Pensiero alla Vena Perché il bagno doccia e il latte valutato corpo ha solo 9,95 ed è una vera promozione Se no abbiamo il set più grande sempre alla Vena che comprende il bagno doccia, il latte corpo e il gel per le mani Più questo bellissimo cestino molto carino come regalo a 14,95 Stessa cosa anche per il set alla vaniglia Sempre con quello più grande che comprende il latte corpo, il gel doccia, il mini profumo e la pastiglia per il bagno Sempre con il cestino oppure quello al cocco Eccolo qui Quello ovviamente ha l'olio d'oliva Eccolo E quello alla mora Eccolo qui Il prezzo di questo alla mora è sbagliato perché è 14,95 come tutti gli altri Quindi tranquille Andiamo avanti Abbiamo, eccola qui, l'offerta con due balsami labbra su 3 euro Quindi in offerta sono 1,50 l'uno invece 1,95 Quindi si fa il primo col codice nero e il secondo col codice rosso, come sempre E si hanno due balsamo labbra a scelta a 3 euro Eccoci qui, abbiamo i set Questi qui profumazioni, quelli del gel doccia Quindi abbiamo ad esempio il set profumo delicato a 6,95 Che comprende la crema doccia alla mandala della California Quello alle cotone d'India E quello al riso biol di Laos Oppure in set goloso, al 6,95 sempre Con il gel doccia alla noce di macadamia E quello ai chicchi di caffè E quello alla mandala della California Eccoci, c'è anche il set relax Che comprende il mio po' a questo prezzo Il gel doccia alla lavandina di Provenza Ai fiori di Magnoglia E al fiori di Loto Ogni set di questi gel doccia Viene venduto con questa bellissima borsina Trasparente anche Proprio per avere un set regalo E ora iniziamo con il set Regalo per la cura del viso Quindi il primo è questo Della serum vegetale Eccolo qui Che comprende il trattamento del gigante giorno Più il trattamento del gigante notte In questa bellissima borsa shopping A solo 24,95 Stessa cosa anche per il serum Quello rimpolpante 27,95 Giorno, notte Più la borsa Stessa cosa anche per il set Serum vegetale Quello rimodellante 29,95 Sempre giorno Notte Più la borsa Ovviamente anche l'elixir 7,9 Sempre giorno e notte Sempre la borsa A 34,95 Stesso set sempre Ed è anche dell'elixir globale 39,95 Sempre giorno e notte Più la borsa In questo caso possiamo scegliere Tra quello per la pelle normale Oppure il set per la pelle secca E ovviamente anche della linea Ed è Rich Creme 32,95 Sempre la crema giorno La crema notte E la borsa shopping Vediamo ora il set efficace Antimacchia Sempre lo stesso set Quindi 29,95 E abbiamo Sempre la borsa Il correttore inerato Antimacchie E il siro perfezionatore Antimacchie Oppure la linea Lifting bio 24,95 Sempre la borsa E la crema giorno E la crema notte Veniamo ora A dei set Questa inizia è limitata Al mascara colorati Perché Abbiamo Ed è Una promozione Dove Il primo Si paga a prezzo pieno E il secondo Solo 3 euro Quindi Volendo Si può scegliere Ed è Un mascara Ad esempio Questo turchese Con il prezzo Il codice nero E il secondo Con il codice rosso In questo caso Si paga 3 euro Invece di 4,95 Quindi il primo Si paga 4,95 E il secondo Volendo 3 euro E basta Andiamo poi Questi set Ora ve li mostro Eccoli qui 16,95 Questi set Truccotti Che in base ai colori Comprendono Questo beauty Lo struccante rapido Bifasico Ed è due stilocchi Waterproof Che io adoro Ad esempio Vi prendo questo Il set Occhi turchese Che ha la stilocchi Quella nera E quella turchese C'è anche Il set Occhi viola Sempre con La nera In questo caso Il viola Il set Occhi verde La nera Più il verde E torniamo indietro Perché ci abbiamo Anche Eccola qui Il set Occhi blu Sempre la nera Più il blu Gli altri Prodotti Sono sempre uguali Quindi sempre Lo struccante Faccio vedere qui Ecco Lo struccante rapido Ed il vanti Eccoci qui Altra promozione Perché abbiamo I due matitoni Glossi Ed ha solo 14,95 Quindi Di tutte e due Il prezzo è questo Ed si può scegliere Tra tutti i colori disponibili Quindi il primo Con il codice nero Come sempre E il secondo Con il codice rosso A scelta Guarda che bel colore Sono fantastici Eccoci ora All'idea regalo E per le mani Quindi il vanity L'abbiamo già visto Nell'altro set Ed abbiamo A 14,95 Il set Che comprende Il vanity Il Solvente Per smalto E poi Il trattamento Unghia cuticola E due smalti gel E in questo caso Abbiamo un set Mani sexy Con questi due colori Abbiamo anche Il set Mani Glamour Che comprende E altri due colori Sempre I stessi prodotti Quindi sempre Il vanity Il solvente E il trattamento Per le cuticole Però con altri due colori E quelli qui Oppure questi Fashion Con gli altri due colori E quello prima Con i due colori Più chiari Quindi potete scegliere Tranquillamente I colori Che più vi piacciono Ed ora Eccoci Alla fantastica promozione Della Befana Perché Da questa pagina Acquistando 15 euro Di prodotti Si ha in omaggio Ed è Questa bellissima calza Quindi partiamo Se possiamo vedere Gli smalti Questi piccolini A 1,95 euro Oppure Il gommaggio All'albicocca La maschera Effetto ghiaccio L'acqua Revitalizzante A pompeilmo Il set Per i piedi Ed è Tutti i prodotti Per i piedi Quindi tranquillamente Tra questi prodotti Oppure anche questi Questi qui In altra pagina Quindi la linea bio Ed è Per la riparazione Oppure il gommaggio corpo 15 euro Di prodotti E si ha La calza Della defana Ovviamente Anche Ultima pagina Questa qui Questa qui Anche tra questi prodotti Ovviamente Acquistandoli Sempre Della defana E poi abbiamo Questa che non c'entra Niente Quindi si ferma All'olio nutriente Questa invece È un'altra promozione A parte Perché il 7,95 Le mascara Sexy pulp Disponibile In tutti i colori Quindi nero Marrone O blu Davvero È una super offerta Per un ottimo Ottimo prodotto Questa è l'ultima pagina Dell'album Eccoci Allora Abbiamo visto tutto il catalogo Mi scuso subito Per l'audio del catalogo Che è stato un po' orrendo Ma non so Dove ho messo il microfono Quindi Portate pazienza Qui sotto Come sempre Il link Per quantitarmi Per le informazioni Per gli ordini E anche il link Ovviamente Per skycard Il fatto pdf Il catalogo Così potete tranquillamente Ed è sfogliato con calma Sul vostro computer Ed non mi resta Che augurarvi Buoni acquisti Naturalmente perfumati Con le magiche Catture alle mondo Di Evo Rocher